Ragazzi questo è da riprendere Ora effettuerà un tuffo dall'elicottero dentro l'acqua Si tufferà e cadrà dentro l'acqua Faremo questo esperimento Sopravviverà o morirà? Queste sono le domande che si fanno Ma sul ponte va guardare E' sopravvissuto E' sopravvissuto Eccolo Come sei tutto appannato? Ok è sopravvissuto ragazzi Si era un po' appannata la telecamera perché dentro l'acqua sapete Pensi qui lo ho dovuto tuffare anche io Che sopravvissuto il cameraman Che sopravvissuto il cameraman